Grazie. Beh, è sempre una soddisfazione vedere arrivare con sicurezza queste famiglie dopo tanta sofferenza, pensiamo che la filia non esiste più. Sono molto commosso stamattina perché io ho lavoro vostra se vorrete diventare amici. Perché, come sapete, l'Italia è un paese di emigranti. Il nostro paese è una democrazia migliore. Il nostro paese è una democrazia migliore. I corridoi umanitari sono la dimostrazione che un'altra via di ingresso è possibile alternativa al mare, alternativa anche al traffico degli esseri umani. La federazione, quindi, non ho potuto vedere gli informati, ma salattina il mare. Il canale è un canale, il canale è un canale, il canale è un canale, il canale è un canale. Grazie.